Il gruppo Generali è ormai consolidato come uno dei migliori datori di lavoro in Italia nel comparto finanziario. Quanto incidono la motivazione e il benessere dei dipendenti sui risultati aziendali? Grazie, sono molto contento di questa domanda. Devo dire che sono determinanti, perché l'ingaggio, la motivazione sono fondamentali. Noi siamo una società dove le persone sono al primo posto ed è il valore fondamentale per raccogliere e ottenere anche gli obiettivi aziendali e ovviamente anche verso gli stakeholders. Ci sono molte leve che sono state affinate nel corso degli anni. Noi abbiamo un engagement survey che viene fatto a due anni, poi delle survey periodiche. Abbiamo dei processi di condivisione degli obiettivi con tutti i dipendenti a vari livelli. Quindi dei momenti proprio di condivisione anche dell'andamento aziendale. Il sistema di welfare che poi abbiamo costruito nel corso di questi ultimi anni prevede una numerica di varie tipologie di fringe benefit che penso siamo arrivati quasi a 200 elementi che compongono questo impianto. Quindi un insieme di tante iniziative nell'ambito aziendale che riguardano non solo la Cantra Italia, ma in generale il gruppo, ma qui stiamo parlando della Cantra Italia, quindi dell'insieme delle società che compongono la Cantra Italia, che poi è quella più importante all'interno del gruppo generale, sono state e sono la base per essere considerati sempre ai primi posti nell'ambito dei top employer, nelle varie ricerche e risultati che abbiamo alla fine di questi percorsi, di questi elementi che mettiamo tutti insieme.